benvenuti a tutti oggi vedremo come collegarci a bv sap business warehouse in modo semplice utilizzando alterix e dei connettori fatti apposta integrati all'interno della piattaforma andremo nello specifico a vedere come connetterci a query tramite il tool sap bv read ci permetterà di leggere dati direttamente da query da view da info provider da gerarchie e testi poi andremo a vedere anche come collegarci direttamente alle tabelle di sap infine anche come invece andare a leggere dei dati da dei report sap magari in alcuni casi tutto ciò di cui abbiamo bisogno effettivamente già ce l'abbiamo creato all'interno di un report possiamo andare a leggere questo report praticamente già così come come è fatto partiamo da alterix per chi non la conoscesse è una di quelle piattaforme in cui possibile sviluppare dei flussi di dati creati con tanti piccoli nodi che vengono uniti tra di loro per andare a creare un unico flusso di dati il primo tool che vi farò vedere si chiama sap logon ed è il tool che ci permette di aprire la connessione verso sap che significa che per poter fare l'accesso dovremmo mettere il nostro nome utente e il nostro la nostra password di sap e quindi vengono mantenute diciamo tutte le sicurezze che sono già state create all'interno di sap spesso quindi possibilità di vedere alcune aree alcune tabelle piuttosto che l'impossibilità di farlo quindi partirò con questo tool vado ad aggiungere i due sistemi che utilizzeremo uno è proprio il sistema bv e in questo caso ho già settato nelle opzioni che voglio che mi venga salvato lo username e la password poi andrò anche ad abilitare come secondo ambiente anche il crm perché vedremo per esempio di analisi che faremo andremo a recuperare i dati dei partner quindi dei negozi direttamente nel crm quindi vado ad abilitare l'input verso tutti e due faccio un ping dei server per vedere che tutto sia effettivamente a posto posso raggiungere trampe server quindi siamo ok con la connessione il secondo tool che andremo a vedere è questo sap bv red che mi permette di andare a leggere direttamente dentro sap le query e gli info provider e il tool ha alla sua sinistra un ingresso che si chiama l che si matcha con il logon del sap logon tool quindi questo sap logon lo avremo come unico centro di connessione dopodiché tutti i tools app che si connettono e che vogliamo utilizzare li connetteremo a questa l per poter avere il login praticamente già fatto nella tab basic vado a scegliere l'ambiente a cui voglio connettermi in questo caso sarà il bv system e andrò a cercare una query a cui ci ci andremo a connettere clicco su search mi si apre questo menu a tendina in cui ho praticamente tutti gli info provider e tutte le query a cui io ho effettivamente accesso se sono abituata a vedere le etichette qua in basso possiamo scegliere i text se siamo invece abituati ai nomi tecnici possiamo far apparire anche il nome proprio il nome tecnico abbiamo un menu a tendina dove possiamo settare dei nostri preferiti possiamo suddividere la visualizzazione per folder o in history abbiamo gli ultimi che abbiamo utilizzato recentemente io so che l'elemento che voglio effettivamente andare a leggere si chiama inizia con z poi ha qualcosa nel mezzo e il nome finisce con demo quindi posso scrivere z asterisco demo e fare una ricerca con carattere jolly per farmi elencare in questo caso abbiamo due query che contengono questo nome e andrò ad aprire l'order overview demo quindi possiamo fare delle ricerche anche con carattere jolly una volta che deciderò a quale effettivamente elemento voglio andare a connettermi ad aprire uscirà questa schermata dove abbiamo praticamente quei campi per i quali già all'interno della query è stato scelto che debbano essere utilizzati come parametri se vediamo arancione vuol dire che il tool si aspetta che io vada a inserire qualcosa dove abbiamo l'indicazione mand mandatori sono quei campi che vengono settati come obbligatori all'interno di sap stesso quello che possiamo fare nelle due colonnine low key e high key se sappiamo già i valori ad esempio voglio prendermi l'anno 2015 lo posso scrivere già direttamente oppure se non so effettivamente che cosa devo mettere o non mi ricordo quali sono i valori che ci sono dentro posso cliccare con il tasto destro e fare edit filter item ci si aprirà questa finestra in cui possiamo vedere tutti i valori e abbiamo gli operatori classici che troviamo dentro sap equal greater than in list contains possiamo decidere se il filtro deve funzionare in modalità includi oppure escludi e in questo caso io andrò a prendere solo due tipo di transazioni che sono il WECO quindi seleziono il più per aggiungerlo ma non voglio la modalità equal to voglio la modalità in list quindi in realtà vado a fleggare tutti gli elementi che voglio tenere ora sappiamo che sap proprio per come funziona lui in modo standard contiene molte limitazioni soprattutto per tool esterni che tentano di reperire dei dati quindi se creiamo delle query che sono troppo grosse il rischio è quello che la nostra query venga bloccata perché stiamo effettivamente richiedendo troppi dati possiamo utilizzare questa funzionalità split che può essere implementata nei filtri per dire a SAP che vogliamo fare una prima query solo per gli elementi che sono WECO e una seconda query per gli elementi che sono solo ZISC in questo modo possiamo batchare la richiesta non andiamo mai oltre quello che è il limite di SAP e poi il tool in realtà ci restituirà il risultato già unito dei due batch quindi non è che ci ritroveremo con due file separati che poi dobbiamo in qualche modo rimettere assieme e verrà rimesso assieme direttamente dal tool quindi io adesso clicco su split clicco su ok e se lo mando in esecuzione potremo vedere nella log che le nostre richieste verranno splittate e becciate in base al valore di quella colonna che abbiamo scelto di utilizzare come split vedete abbiamo lo split 0 1 0 2 che mi ha tirato giù 24 record e poi uno split 2 2 che ha tirato giù altri 73 record in questo modo abbiamo chiesto delle mini query a SAP e questa cosa ci permette di andare un po' oltre quello che è il limite delle richieste massime che possono essere fatte all'interno di SAP il risultato che ci viene dato comprende già entrambe le le tipologie di di transazione che avevamo scelto quindi le split poi ce le rimette già subito insieme se mi sposto nella tab selection possiamo selezionare effettivamente quali colonne vogliamo andare a estrarre quelle che vediamo già selezionate sono quelle che sono state create direttamente da chi ha fatto questa puleri volendo possiamo anche selezionarne altre e se andiamo ad aprire le strutture ad albero dove vediamo dei più per alcuni campi possiamo anche andare a scegliere i text quindi i testi ad esempio lo posso fare per il partner number voglio il default test e per alcune tipologie di campi possiamo anche andare ad aprire le gerarchie e andare vedete ad esempio il country ha una gerarchia con la country selection se vedete gli output che abbiamo in uscita abbiamo un D che sta per data quindi saranno i dati veri e propri una T che sta per text ci ritroveremo le etichette con i testi che abbiamo richiesto e un altro output con l'H che sta proprio per gli erarchi in cui ci ritroveremo i valori delle gerarchie quindi in un'unica richiesta possiamo avere testi gerarchie e dati questo box verde dove c'è scritto 12 è un contatore che mi fa capire quando sto eccedendo con le richieste vedete man mano che io seleziono delle colonne lui aumenta finché è verde vuol dire che abbiamo scelto un buon numero di colonne non stiamo eccedendo come quantità quando diventa rosso significa che stiamo chiedendo troppe informazioni a SAP e probabilmente SAP ci darà qualche problema si bloccherà ci bloccherà la query perché stiamo chiedendo troppi dati quindi possiamo utilizzare questo elemento verde per capire effettivamente se stiamo facendo una selezione accurata oppure no ora i dati che sono stati scaricati da SAP come avete visto nelle intestazioni hanno i nomi tecnici zero calmonte, zero caliar, zeta parter che probabilmente se siamo abituati a utilizzare SAP non sarà un problema sappiamo cosa vogliono dire però se andiamo a vedere i metadati che vengono passati da SAP noi nella description abbiamo anche il nome con cui sono stati rinominati questi nomi tecnici quindi abbiamo le etichette possiamo sfruttare questi metadati per andare a rinominare in modo automatico i nostri campi quindi abbiamo un tool all'interno di AlterX che si chiama FieldInfo e ci permette proprio di tirar fuori i metadati di un tool per poter essere riutilizzati quindi lo trascino nell'area di lavoro connetto la D che arriva da SAP lo mando in esecuzione così vediamo effettivamente che cosa ci mostra possiamo sfruttare questa colonna description per andare a rinominare automaticamente i campi che arrivano dal connettore D e lo possiamo fare tramite un altro tool dinamico che si chiama Dynamic Rename a cui posso connettere la mia base di dato originale e la tabellina di lookup che contiene i nomi e posso dirgli di andare a rinominare la colonna di quello che ho connesso al connettore numero L utilizzando le righe che arrivano invece dal mio connettore write dicendogli che il vecchio nome che deve cercare per capire come rinominare è la colonna che si chiama Name mentre il nuovo nome da dare alle colonne lo trova nella colonna description in questo modo andrò a rinominare automaticamente i campi senza doverlo fare manualmente è già un qualcosa che dentro SAP esiste ed è già stato settato possiamo sfruttare al 100% le funzionalità ora che abbiamo tutte queste informazioni sulle nostre vendite del 2015 per quelle due tipologie di transazioni vorremmo andare a capire chi sono questi partner number che vediamo questa informazione ce l'abbiamo direttamente nella tabella SAP che si chiama B-U-T-0-0-0 quindi andremo proprio a connetterci a questa tabella per andare a recuperare le informazioni abbiamo un tool che si chiama SAP Table Veta gli connetto come al solito la N-L per passare i miei dati di login gli dico che voglio lavorare questa volta nell'ambiente CRM perché è qui che ho le informazioni che mi servono e ovviamente io potrei andare a tirare giù tutta la mia tabella B-U-T-0-0-1 di General Data e poi unire solo le informazioni che arrivano dall'input di sopra però in realtà io lo so già che in questo periodo di tempo che ho considerato in realtà avrò dentro sieno una trentina di partner quindi perché devo andare a tirare giù tutta la tabella di SAP quando a priori so che me ne serviranno in realtà solo 30 che sono questi che vedo elencati nel flusso che arriva dalla parte superiore possiamo sfruttare questo connettore S che sta per selection per creare dei filtri dinamici che arrivano direttamente dal mio flusso quindi partendo dal mio flusso superiore posso andare a crearmi una sorta di elenco univoco di quelli che sono i partner che voglio cercare dentro la tabella di SAP quindi utilizzare questo summarize che mi permetterà di fare un group by partner number e ottenere un elenco univoco di elementi che sono nello specifico 23 e passare tutti questi valori come filtro questa volta dinamico all'interno del tool del SAP table in questo modo se anche io farò girare questo flusso tra un mese magari i partner number che ho dentro saranno cambiati e potrò richiedere le informazioni anagrafiche di questi partner dentro la SAP table passando solo quei valori che mi servono iniziamo ad impostare il tool come se volessimo fare un filtro manuale per capire la sintassi di cui abbiamo bisogno adesso vado a cercare la tabella che mi serve che è la BUT0001 forse ho messo uno zero di troppo ok anzi facciamo la 000 facciamo general data 1 ok vado sotto filters and variable anzi prima seleziono le colonne che mi servono sicuramente mi serve il business partner ID che è proprio quello che io voglio filtrare e recuperare dal flusso di sopra e poi voglio il search term 1 e 2 che sarebbero le due etichette che mi dicono il nome del negozio e la sede se volessi creare un filtro veloce su questo business partner ID tasto destro add new filter equal to mi va bene lo seleziono e clicco su più e poi posso letteralmente copiare questa tabellina name, selection, operator, low key e tutto quanto e crearmi un input all'interno di alterix che verrà popolato dinamicamente con gli elementi che arrivano direttamente dal mio summarize sopra quindi posso fare tasto destro copy headers and value dopodiché posso prendere un text input che è un piccolo input di test che mi permette di fare dell'inserzione manuale di fatto e vado ad incollare questa struttura se al posto di questo xxxxx che abbiamo io vado a metterci direttamente i valori che arrivano da questo summarize andrò a creare un parametro dinamico da passare direttamente nella S del tool di modo che vado a chiedere solo quei 23 valori alla tabella di SAP quindi vado a prendere un tool che si chiama append fields e mi permette di appendere tutte le righe di un database con tutte le righe di un altro database che sarà proprio il summarize che abbiamo sopra ha ragione anche lui mi sta dando un errore perché l'operazione che ho fatto creerà la duplicazione di più di 16 righe devo disabilitare l'opzione di permettermi di fare tutti gli append di cui ho bisogno quindi ho praticamente moltiplicato 23 volte il singolo la singola riga che avevo nel mio nella mia tabellina di testo e ho creato una riga per ogni partner number quello che posso fare adesso sarà andare a rimpiazzare questo low key che è sempre fisso con il valore che mi arriva da partner number quindi posso prendere un formula tool ad esempio andare a sovrascrivere la colonna low key e al posto di tutte quelle x voglio ricopiarci dentro quello che trova scritto nella colonna partner number mi vado a fare praticamente uno switch delle due colonne e poi la colonna partner number la cancello perché in realtà non mi serve più il mio low key ha già acquisito quei valori quindi adesso posso inserire questo flusso all'interno del parametro s abbiamo una tab che si chiama dynamic input se come ho fatto io il nostro input ha già i nomi name selection operator li prende da solo altrimenti i titolini della piccola base di dato che ho preparato potrebbero anche chiamarsi diversamente poi però dobbiamo avere l'accortezza di venire a mapparli qua dentro e se adesso mando in esecuzione dalla nostra tabella BUT000 avremo solo quei 23 elementi che effettivamente volevamo cercare con il loro nome e il loro la loro location ora che ho recuperato queste due informazioni la voglio unire alla mia base di dato principale voglio aggiungere le due colonnine con la location e il nome posso ancora una volta sfruttare un altro tool che fa parte della tab join questa volta si chiama join e ci permette proprio di fare una join tra due basi di dato che per chi non conosce database è un po' come il cerca verticale in Excel quindi posso dirgli che voglio prendere le righe che arrivano dal flusso left e unirli alle righe che arrivano dal flusso right andando ad abbinare quelle righe che hanno lo stesso partner number che in una tabella si chiama partner number nell'altra tabella si chiama partner e basta quindi andremo ad abbinare ad ogni partner il suo nome e la sua location una volta che abbiamo finito di estrarre i dati da SAP è probabile che ci metteremo a fare un po' di data preparation e altre operazioni all'interno di Alterix se non vogliamo andare a lanciare una query tutte le volte verso SAP possiamo chiedere ad Alterix di cacheare il flow localmente di modo che da adesso in poi quando andremo a mandare in esecuzione il flusso non andremo più a chiedere i dati direttamente a SAP ma i dati verranno salvati localmente in modo temporaneo all'interno del nostro computer vedete sotto questa cartella temporanea è stata creata questa cache da adesso in poi quando io andrò avanti con il mio flusso non starò più chiedendo i dati da SAP ma ce li ho già in locale vedete si frizzano all'interno di queste specie di cubetti di ghiaccio e li possiamo utilizzare quindi ad esempio non so voglio utilizzare un select per andare a tirare via alcune colonne che non mi servono a nulla tipo il partner text o il partner country text questi view sort 1 e 2 li voglio rinominare come nome e location vedete adesso è estremamente veloce ci metteremo pochissimo a fare qualsiasi operazione perché siamo in locale potrei anche ad esempio prendere la data che è fatta in questo formato che non è esattamente un formato data e utilizzare un tool che si chiama date and time che ci permette di fare conversioni da stringhe di testo a date e viceversa quindi il mio calendar date mi basta cercare qual è il formato in cui è fatto ed è questa penultima opzione l'anno a quattro mesi a quattro cifre il mese a due cifre il giorno a due cifre e crearmi la mia colonna con le date vere e proprie e poi magari potrei utilizzare di nuovo questo tool questa volta per fare l'opzione contraria da date and time voglio andare a crearmi una stringa che chiamerò anno mese e la voglio formattare come mont virgola y y y quindi avremo l'indicazione del mese dell'anno e poi voglio farmi un aggregato che per anno mese e per ogni location e name mi riporta il totale del net value quindi posso utilizzare ad esempio un summarize chiedere di raggruppare i miei valori per nome per location e anche per anno mese e farmi una somma del net value e quindi una volta connessi in modo semplice al dato possiamo andare avanti a farci diciamo tutta la nostra preparazione all'interno di di alterix ora abbiamo utilizzato query tabelle un modo automatico per rinominare i campi in modo dinamico per ricostruire questa tabella ma in realtà all'interno dei nostri sistemi avevamo già un report che era esattamente il risultato che noi alla fine abbiamo ottenuto quindi in alcuni casi se già abbiamo dei report che contengono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno è inutile diciamo reinventare la ruota e creare qualcosa che già esiste tra i tool che fanno parte della suite abbiamo anche questo report tool che ci permette di leggere direttamente dei report i report sap solitamente non sono proprio facilissimi da leggere sono un po' formatati anni 80 mi verrebbe da dire sembrano gli output dei vecchi mainframe in questo caso saremo molto molto facilitati dalla lettura perché il tool farà praticamente tutto quindi come al solito vado a connettere il logon di modo che io possa passare l'informazione sul login direttamente al tool vado a selezionare l'ambiente che è l'ambiente bv posso scegliere se voglio vedere un report oppure un transaction code e posso in caso un report e posso fare una ricerca anche in questo caso so che inizia con zeta nel mezzo ci può essere qualsiasi cosa e finisce con demo e andiamo a scegliere il report che vogliamo aprire possiamo avere anche delle varianti di questo report il tool automa già da solo capisce qual è il carattere separatore perché gli viene passata l'informazione direttamente da sap quello che possiamo fare è spostarci nella tab sample data chiedere una preview per vedere come sarebbe il nostro report vedete abbiamo tutte queste informazioni queste righettine orizzontali verticali che non servono di fatto a nulla posso fare tasto destro su quello che corrisponde alla riga che contiene i nostri titoli e aggiungere questa informazione dicendo che questo è il leader della nostra tabella poi posso passare a vedere anche una preview di come verrebbe effettivamente sotto forma tabellare il nostro report e se tutto effettivamente è a posto posso mandare in esecuzione e aggiungere un browse alla fine per poter vedere effettivamente il risultato adesso abbiamo scelto ovviamente di tirare giù tutte le informazioni volendo sotto la tab fields possiamo decidere quali colonne effettivamente vogliamo mantenere quali non ci servono e se abbiamo la necessità di creare dei filtri possiamo anche aggiungere dei filtri per vedere il nostro report di fatto filtrato e non completo al 100% quindi grazie a questi tool abbiamo visto quanto sia semplice connettersi a SAP di fatto l'interfaccia che vediamo è al 90% uguale all'interfaccia che siamo abituati a vedere tutti i giorni su SAP abbiamo la possibilità di fare delle richieste splittate che ci permettono di non andare contro a quelli che sono i limiti imposti da SAP stesso rimaniamo sempre all'interno della stessa area di lavoro quindi non è magari come succede adesso che avete tante piccole estrazioni che vi tirano fuori tanti piccoli file Excel che però sono file Excel che magari hanno dentro 5.000 6.000 righe di dato l'uno e quindi poi per poterli utilizzare Excel stesso non ce la fa si blocca si cresce e succedono cose del genere qua invece rimaniamo diciamo sempre all'interno della stessa area di lavoro e una volta che abbiamo finito di fare la parte di estrazione possiamo anche cashare il nostro risultato e andare avanti a fare tutta la data preparation di cui abbiamo bisogno in modo semplice senza dover inserire nessun tipo di script sono tutti tool che hanno vedete un'interfaccia la cosa più difficile probabilmente sono le formule poi per il resto sono tutti tool che hanno un'interfaccia utente per il quale non richiede diciamo nessuna tipologia di scripting è un'interfaccia utente è un'interfaccia utente è un'interfaccia utente